In Sicilia per il 2007-2013 il FEP continuerà a promuovere con nuove risorse uno sviluppo sostenibile dell'economia del settore ittico. Sosteniamo la pesca da cima a fondo. Utilizziamo il FEP, Fondo Europeo per la Pesca. La Sicilia, il mare, i suoi uomini, la pesca. La pesca è l'attività economica più antica dell'isola dalla quale ancora buona parte della popolazione isolana trae sostentamento. Oggi il Dipartimento degli Interventi per la Pesca, attraverso il FEP, Fondo Europeo per la Pesca, dà un sostegno finanziario importante, circa 151 milioni di euro, al comparto ittico per il periodo di programmazione 2007-2013, per aiutare la pesca a proseguire il proprio percorso di sviluppo. Oggi, grazie al Fondo Europeo per la Pesca, i pescatori e gli imprenditori siciliani del settore possono attivare piani di ammodernamento, di riconversione o di dismissione della propria flotta. Si potrà investire nell'acquacultura per migliorare la qualità del pescato senza incidere sulle risorse marine. Si potranno attivare piani di miglioramento delle attività produttive nel settore della trasformazione del pescato o attivare opere di adeguamento delle infrastrutture portuali dedicate ai pescatori. In atto possono essere presentate domande per accedere alla misura 1.3 relativa agli ammodernamenti del naviglio e alla misura 3.1 lettera M, piani di gestione locale. E inoltre è possibile partecipare ai bandi relativi alla misura 2.1 per investimenti produttivi nel settore dell'acquacultura e della misura 2.3 che prevede investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione. A breve saranno emanati bandi relativi alle misure 1.5, compensazioni socio-economiche e 4.1 per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Questi e tutti i bandi successivi sono consultabili sul sito internet www.fep.sicilia.it o sul sito ufficiale del Dipartimento degli Interventi per la Pesca. Grazie al FEP la regione siciliana investe nel presente, incoraggiando il futuro, migliorando la competitività del settore ittico. Grazie al FEP in Sicilia sosteniamo la pesca da cima a fondo. In Sicilia sosteniamo la pesca da cima a fondo. Utilizziamo il FEP. Attività di informazione e comunicazione promossa dalla regione siciliana, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento degli Interventi per la Pesca, nell'ambito della misura 5.2 del Fondo Europeo per la Pesca.